Ciao e bentornati. Nel video precedente abbiamo iniziato a vedere un po' la teoria della relatività partendo dalla teoria della relatività ristretta e abbiamo detto che la teoria della relatività ristretta si chiama così perché si occupa di sistemi di riferimento in moto a velocità costante e senza cambi di direzione, quindi sistemi di riferimento non accelerati o per esattezza sistemi di riferimento inerziali. In questo video vorrei parlare invece della teoria della relatività generale che, come dice il nome, generalizza i risultati della relatività ristretta ai sistemi di riferimento accelerati. Per capire l'idea fondamentale dietro la teoria della relatività generale di Einstein ho bisogno di due oggetti, un martello e un foglio di carta. Se adesso vi chiedessi se lasciassi cadere questi due oggetti, chi arriverebbe per primo per terra, sicuramente mi rispondereste il martello. Beh, in effetti è così. Sulla terra è così perché c'è l'aria, c'è la resistenza dell'aria e quindi il foglio di carta avrebbe una maggiore resistenza e arriverebbe più tardi. Ma in realtà se potessimo fare questo esperimento nel vuoto i due oggetti dovrebbero arrivare a terra simultaneamente. È un esperimento che effettivamente è stato fatto dagli astronauti della missione Apollo. Sulla Luna, in assenza di aria, il martello e la piuma, in quel caso, arrivano a terra nello stesso momento. Questo avviene perché l'accelerazione con cui cadono gli oggetti in un campo gravitazionale è indipendente dalla massa degli oggetti. C'è un famoso esperimento di cui si parla spesso che è l'esperimento della caduta dei gravi dalla torre di Pisa con cui a quanto pare Galileo dimostrò che una sfera di piombe, una sfera di legno arrivano a terra nello stesso momento e quindi hanno la stessa accelerazione del campo gravitazionale terrestre. Ci sono dei dubbi che l'esperimento sia stato condotto veramente da Galileo perché sarebbe stato molto difficile accorgersi che l'accelerazione è la stessa essendoci la resistenza dell'aria ma insomma il fatto è questo. Il fatto reale è che effettivamente l'accelerazione di caduta in un campo gravitazionale non dipende dalla massa degli oggetti. Einstein partì da questo fatto per un'idea che lui stesso definì l'idea più brillante che lui aveva mai avuto in tutta la sua vita. E immaginate di trovarvi all'interno di una stanza chiusa che fluttua nel vuoto dello spazio, lontano da qualunque campo gravitazionale, da qualunque massa. È chiaro che se all'interno di questa stanza prendete il solito martello, il solito foglio di carta e li lasciate andare, questi due oggetti galleggiano perché non ci sono campi gravitazionali, quindi fluttuano così nel vuoto liberamente. Einstein però ebbe questa idea se adesso la stanza non è lontana da qualunque campo gravitazionale, non è lontana da qualunque massa, ma sta cadendo in un campo gravitazionale, che cosa succederebbe? Beh, se l'accelerazione in un campo gravitazionale è la stessa per tutti gli oggetti, tutti gli oggetti che sono all'interno della stanza, quindi voi, il martello, il foglio di carta e la stanza stessa, cadreste esattamente con la stessa accelerazione. E quindi dal vostro punto di vista tutto sarebbe esattamente identico a quello che succedeva all'interno della stanza che si trovava lontano da qualunque campo gravitazionale, da qualunque massa. Vedreste gli oggetti fluttuare liberamente e voi stessi non avvertireste il vostro peso. Sembra una cosa strana, ma in effetti questo è esattamente il metodo che usano gli astronauti per allenarsi sulla Terra a stare in assenza di peso per brevi tempi. Se siete all'interno di un aereo che è in caduta libera, all'interno del campo gravitazionale terrestre, tutto quello che è all'interno dell'aereo cade esattamente con la stessa accelerazione e quindi sperimentate l'assenza di peso. Non perché siete lontani da un campo gravitazionale, ma perché state cadendo in un campo gravitazionale. Quindi in un certo senso l'accelerazione di caduta in un campo gravitazionale sta cancellando il campo gravitazionale stesso. Facciamo un altro esempio. Se siete all'interno di un razzo che accelera verso l'alto, quello che sperimentate è un aumento di peso, vi sentite schiacciati sul pavimento del razzo. Quindi l'accelerazione del razzo dal vostro punto di vista è indistinguibile dal fatto di trovarvi all'interno di un campo gravitazionale. Bene, questa fu l'idea brillante di Einstein. Trattare i sistemi di riferimento accelerati come sistemi di riferimento inerziali, ma in cui c'è la gravità. Quello che succede dopo è un sacco di matematica anche piuttosto complicata, ma si può capire una delle conseguenze incredibili di questa idea di Einstein e della relatività generale che ne consegue in maniera abbastanza semplice. Avete sicuramente sentito parlare del fatto che nella relatività generale la massa curva lo spazio. Ma che cosa significa esattamente questa cosa? Beh, torniamo di nuovo all'esempio di un sistema di riferimento che è lontano da qualunque campo gravitazionale e all'interno del quale accendete un laser, sparate un raggio luminoso e questo raggio luminoso si propaga all'interno del vostro sistema di riferimento in una linea perfettamente retta. Adesso immaginate che questo sistema di riferimento non sia più lontano da qualunque campo gravitazionale, ma sia in caduta libera in un campo gravitazionale, esattamente come nell'esempio da cui abbiamo iniziato. Bene, all'interno di questo sistema di riferimento in caduta libera abbiamo detto vi trovate in una situazione che è indistinguibile da quella di essere completamente lontani da qualunque massa e da qualunque campo gravitazionale e per voi la luce continua a propagarsi in linea retta, come faceva quando eravate lontani da qualunque campo gravitazionale. Però immaginate di guardare la cosa dall'esterno. Il vostro sistema è in caduta libera, quindi la luce che si muove all'interno di questo sistema di riferimento per un osservatore esterno sta in realtà facendo un percorso curvo, una traiettoria curva. Ecco da dove nasce l'idea della curvatura dello spazio. In un campo gravitazionale i raggi luminosi seguono un percorso che non è rettilineo ma curvo. I raggi luminosi si propagano sempre lungo la traiettoria più breve tra due punti, semplicemente è lo spazio che non è più piano, spianato come nel caso senza gravità ma adesso è curvo. E quindi Einstein nel tentativo di scrivere le leggi della fisica in maniera che fossero le stesse per tutti i sistemi di riferimento, anche per i sistemi di riferimento accelerati, arrivò a un'altra conclusione. Era possibile descrivere la gravità, che fino a quel momento era stata considerata una forza attrattiva tra le masse, come una conseguenza della curvatura dello spazio. Una massa curva lo spazio circostante e gli altri oggetti seguono le traiettorie più brevi in questo spazio che adesso è curvo. In questo modo possiamo interpretare perfettamente tutto quello che osserviamo, dal moto dei pianeti intorno al Sole fino a eventi ancora più complessi, ma di cui parleremo un'altra volta. Per il momento mi fermerei qui. Spero che questo video vi abbia aiutato a chiarirvi un po' le idee su che cosa è la relatività generale e perché parliamo di curvatura dello spazio e da dove nasce questa idea. Per altri video come questi iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!